buonasera ciao a tutti purtroppo non posso essere con voi sono al lavoro mando questo messaggio perché volevo esserci in tutti i modi è molto importante per me come donna come mamma di donne sottolineare l'importanza di tornare a fare prevenzione e di informarsi sui sani stili di vita sulla salute femminile e di sottoporsi proprio alle visite ginecologiche non dimenticare che la prevenzione è il primo passo verso la possibilità di salvarsi da malattie importanti con questi anni di pandemia tutte le chiusure è stato veramente molto difficile per troppe donne sottoporsi ai controlli medici anche ai controlli di routine addirittura delle donne hanno avuto problemi a curare il proprio la propria malattia e per questo diventa veramente urgente oggi poterlo fare grazie al vostro progetto no woman sosteniamo veramente l'importanza di essere donne e con un viaggio formativo per la prevenzione un percorso online che totalmente gratuito che tutti potete potrete seguire veramente non dimentichiamoci delle donne non dimentichiamoci dell'importanza della prevenzione che veramente il primo passo per salvarsi la vita delle volte veramente il presidente mattarella diceva che la salute femminile costituisce un bene primario e collettivo la cui tutela non deve conoscere né limiti e né ostacoli ecco grazie al vostro progetto questo sarà possibile anche online per tutte le donne e quindi mi dispiace non essere con voi ma felice di potervi fare un augurio di buona serata grazie a tutti